Guidava ubriaco, la sua auto si è schiantata contro un tir. Nell'incidente è rimasta uccisa la sua compagna. Per questo i carabinieri della sezione radiomobile di Rieti hanno arrestato un 35enne incensurato per il reato d'omicidio stradale. L'uomo la scorsa notte è rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto lungo la salaria, nei pressi della frazione di San Giovanni Reatino, comune di Rieti, in seguito al quale ha perso la vita la sua compagna 26enne ed origini polacche. I carabinieri hanno accertato che si è trattato di uno scontro frontale tra l'utilitario della coppia che percorreva la statale in direzione Roma e un auto articolato ad un noto vettore di trasporti. I rispettivi conducenti sono stati trasportati presso l'ospedale di Rieti ma non risultano in pericolo di vita mentre la donna è deceduta sul colpo. I successivi accertamenti sanitari, ha fatto sapere stamane l'arma dei carabinieri, hanno consentito di rilevare che il conducente dell'autovettura su cui viaggiava la donna che ha perso la vita aveva un tasso alcolemico pari a 2,93 grammi al litro, limite massimo di 0,5. Per questo motivo il 35enne è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari.